Ciao ragazze, oggi volevo fare un video che ho appena fatto la versione in inglese di acquisti che ho fatto per mia figlia e anche per una coppia di amici quindi sarà un haul di bambini se non vi piace questo tipo di video potete scollegarvi subito so che molti di voi guardate il mio canale più per la parte cosmetica però volevo condividere comunque è un brand inglese, si chiama Next metterò il link sotto e praticamente con 20 euro di acquisto loro ti mandano via DHL quindi Corriere Espresso arriva in 2-3 giorni massimo i vostri acquisti e hanno veramente cose carine per chi ha amici, che hanno bambini o deve fare regali hanno cose veramente particolari comincio subito che così smetto di parlare il primo è questa adorabile t-shirt a forma di zucca per Halloween con le steline che brillano dice Mommy's Little Pumpkin e dietro ha soltanto questi puntini carinissimi questi poa poi ho comprato un'altra t-shirt un po' meno divertente un po' più da ragazzina che è questa qua con i fiori dice I love Mommy è in rilievo quindi è molto carina e sono fatto molto bene i loro prodotti e sono abbastanza i prezzi sono abbastanza buoni comunque andate a vedere poi per questa coppia di amici che è un maschietto chi compie un anno abbiamo preso questo set di tre pigiamini di dinosauro quindi molto da maschietto sono carinissimi i colori molto molto vivi e ho tolto una delle delle parti sopra per farvi vedere quindi è cotone super colorato blu verde cioè ognuno ha un colore diverso sono fatte veramente molto bene io i pigiami di mia fila tutto sono di questo marchio tutti tutti e il pezzo forte ah anzi prima del pezzo forte per mia figlia ho anche comprato queste piccole decorazioni per i capelli di Halloween non ho resistito con la t-shirt credo che sarà bellissima comunque l'ultimo pezzo forte che dicevo è questo bellissimo una felpa in cotone ma un cotone molto spesso quindi è anche abbastanza calda di bavo natale con il nasino che è in rilievo e dietro è troppo carina dice ho 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 questo comunque è un regalo carinissimo divertente qualità ripeto abbastanza buona io tutto quello che compro loro li pago con i miei soldi ma li pago volentieri quindi per dirvi non sono pagata per parlare di loro parlo condivido con voi solo veramente quello che mi piace che non è che può piacere a tutti ma comunque hanno delle cose molto belle ragazze se vi piace fatemi sapere lasciate commenti e comunque spero sentirvi presto vi lascio un bacione e alla prossima ciao ciao